Se stai guardando questo video, è probabile che il tuo lui o la tua lei ti abbia lasciato. In questo momento stai male, non sei riuscito o riuscita a recuperare la relazione e non riesci a dimenticarla. In un altro video ti avevo spiegato come sia possibile togliere dalla nostra mente le persone che ci fanno star male. Ti lascio il link qua in alto. Ma in questo video voglio fare qualcosa di più. Voglio fare in modo che poi tu possa dimenticarlo per sempre. Sei pronto? Sei pronta? Iniziamo! In questo video parleremo di tre fasi della relazione, che sono l'innamoramento, l'abbandono e la rivincita. Se ancora non l'hai fatto, è arrivato il momento di iscriverti a questo canale spuntando la campanellina. In questo modo riceverai le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ma torniamo a noi e diciamo che le persone conoscono le prime due fasi della relazione, ovvero la fase dell'innamoramento e la fase dell'abbandono. Molte non ne sono consapevoli, ma c'è la fase più importante, che è la fase della rivincita. Che è proprio quel momento che ti permette di dimenticarti e levare, togliere, cancellare dalla tua vita la persona che ti sta facendo soffrire. Se pensi che per te sia arrivato il momento di prenderti questa rivincita, allora clicca qua in basso, mi piace. Iniziamo dalla prima fase, l'innamoramento. E questa fase è bellissima, no? Cosa succede? Che tu incontri una persona, a volte per sbaglio. C'è questa attrazione fisica iniziale, ci sono questi dettagli che ti piacciono della persona. Lo sguardo, i capelli, il profumo, come ti parla. E si crea una relazione. Da un semplice conoscente, all'improvviso diventa la persona più importante della tua vita. E provi un vortice di sentimenti, no? Tu sei coinvolto da questa persona, non puoi vivere senza di lei. Sei completamente attaccato a lei. Vivete in simbiosi per un periodo della vostra vita. Poi si passa alla seconda fase. L'abbandono. In genere la passione in una relazione dura due, tre anni. Poi le relazioni durano dieci anni. E comunque l'amore è mutevole, cambia. Cambiano le persone, cambiano le esperienze che fanno. Si cresce a volte in modi differenti. Quindi i motivi che ti allontanano dall'altra persona possono essere infiniti. Però c'è un momento in cui qualcosa si incrina e la relazione finisce. Ed è un peccato. Realmente è un peccato perché è stata bella. Non è stata bella, è stata intensa, vissuta da entrambi. E ti chiedi, ok, perché è finita? Cosa è successo? Cosa ho fatto? Cosa ha causato questa rottura? E non sempre c'è una spiegazione logica in tutto questo. A volte è proprio una questione di stravolgimento della vita. Però uno e due decide. Decide e dici, ok, guarda, io ti amo un po' di meno. E quindi tra di noi la cosa finisce. E chi ci sta male, in definitiva, è chi viene lasciato, no? Quindi immagino che se tu adesso mi stai guardando probabilmente sei la persona che è stata lasciata. E tu stai male perché tu hai creato una dipendenza affettiva. Si è creata nei confronti di quest'altra persona. Tu non puoi vivere senza di lei. La sua presenza ti genera a livello fisico una produzione di ormoni che ti fanno star bene. All'improvviso viene interrotta questa scarica di energia che ti trasmette l'altra persona e tu avresti bisogno di stare con lei. Come ti ho detto, in questo caso vorresti dimenticarla. E questo è il punto di partenza. Il punto di partenza per la rivincita. Tre, la rivincita. Ok, cosa intendo io per rivincita? Per me rivincita non significa voler fare del male agli altri, no? Non voglio dire, ok, tu mi hai lasciato, tu mi hai fatto star male, adesso è il momento, ed è il mio momento, per prendermi una rivalza e far star male a te. Non è questo. La mia idea di rivincita è offrirti un modo che funziona per allontanarti o allontanare la tua mente dall'altra persona. Dimenticarla e toglierla completamente dalla tua vita. Hai provato a riconquistarla, la cosa non funziona, ricordarla ti fa star male e allora è arrivato il momento di allontanare la tua vita. E' di questo che parleremo nella rivincita. Quindi, in questa fase in cui ti ha appena lasciato, ciò che ti serve è far riferimento all'altro video dove parlo della tecnica fuori. Te la riassumo. Ogni volta che nella tua mente compare il ricordo di questa persona che genera questo ricordo uno stato d'animo sofferente, tu devi dire fuori, tu devi dire e eliminare questo ricordo. Ok? Togliere questo ricordo, togliere questo ricordo. In questo modo eviterai di soffrire. Perché, pensaci bene, la mente, la nostra mente vive solo il presente, no? Io sto qua con te e quindi, ok, tu vedi me e sta vivendo questo momento. Però, tu nel presente puoi vivere dei ricordi del passato, immaginare e scenari futuri con questa persona che hai tanto amato. E questo fa sì che tu, magari, non vivi solamente la giornata di oggi con lei perché è presente, ma potresti vivere anche la giornata di domani con lei perché, ok, non è fisicamente presente ma è presente nella tua mente e la tua mente continua ad immaginare. Quindi, la prima cosa è toglierla dalla mente, allontanarla dalla mente. Ogni volta che lei torna dentro di te, tu dici fuori. Prima cosa da fare. Seconda cosa da fare è prenderti cura della tua mente e del tuo corpo. Tu devi rimetterti in forma. Come fare? Per la tua mente, ogni sera, mezz'ora, prendi carta e penna e scrivi. Scrivi tutto ciò che ti gira sui menti, tutto ciò che pensi, tutto ciò che ti fa star bene o che ti fa star male. Serve semplicemente che tu inizi a scrivere mezz'ora ogni giorno. La seconda cosa che devi fare è mettere a posto il tuo corpo. Tu devi essere fisicamente forte e potente. Devi sentirti fisicamente in forma. Cosa succederà? Avrai, con la tecnica fuori, allontanato il ricordo della persona amata e sarà ogni giorno più debole il ricordo di lei. Poi, avrai fatto chiarezza nella tua mente perché avrai scritto, avrai messo un po' di ordine alle tue idee. E la terza cosa ti sarai rimesso o rimessa in forma fisicamente. Dopo un po', è probabile che tu inizi a dire ok, non ho più bisogno di questa persona al mio fianco e questo è il momento per rivederla. Vedrai perché Riccardo è il momento di rivederla. Perché è arrivato il momento di dimenticarla. Nel momento in cui tu rivedi un ex, tu togli a questo ex o a questa ex la magia di cui l'avevi investita. noi creiamo un'immagine della persona amata. Un'immagine che spesso non corrisponde alla realtà. È semplicemente un'idea che ci siamo costruiti. Ti assicuro che nel momento in cui la andrai a rivedere, ci andrai a parlare, semplicemente due chiacchiere. Vai là e farai due chiacchiere con lei ti accorgerai che non era così speciale come credevi. E sei stato tu o sei stato tu a rendela speciale. Quella tua fantasia con i tuoi ricordi le hai dato un'importanza che questa persona non aveva. E questo è il momento in cui la dimenticherai definitivamente perché non sarà più così speciale per te. Abbiamo visto quali sono i tre punti della della relazione. L'innamoramento, l'abbandono e la riconquista che è la parte che ci interessava. La riconquista che si basa su prima cosa mettere a posto la mente mettere a posto il fisico e poi allontanare la nostra persona amata dai nostri ricordi per poi eliminarla rivedendola. E quando le persone mi dicono ok Riccardo perché è così importante rivederla e eliminarla dico perché in questo modo evitiamo di creare un amore eterno. Era reale l'amore eterno esiste però l'amore eterno esiste solamente quando c'è una coppia due persone e all'improvviso una delle due scompare. Quest'altra persona non avrà più modo di parlare con lei che con l'altra e quindi non avrà più modo di capire come potrebbe essere andata di conoscerla realmente e continuerà a vivere questa relazione che si è congelata nel tempo ed è un problema quando la relazione si congelata nel tempo il problema è che tu hai creato un amore perfetto e questo amore perfetto ti impedisce di aprirti a nuove e bellissime relazioni quindi il mio consiglio è che il modo migliore per dimenticare un ex è quello di dargli l'occasione di deluderti. spero che questo video ti sia piaciuto se così è stato puoi mettere un mi piace puoi condividerlo e noi ci vediamo presto un abbraccio ciao